Onorevole Osnato. Grazie Presidente. Il mio ordine del giorno tratta di un argomento, direi più che di un argomento di un diritto essenziale, riconosciuto anche dai valori fondanti della nostra Repubblica, che è il diritto alla casa. E lo tratta di un aspetto ancora più peculiare, che è quello dell'edilizia sociale. Vede, nella nostra nazione succede una cosa abbastanza curiosa, che porta anche a una disparità di trattamento tra cittadini e cittadini e tra enti pubblici di diversa accezione. Vede, l'alloggio popolare, cosiddetto, ovvero l'alloggio di elizia sociale, in Italia è di solito un patrimonio demaniale del Comune o delle Regioni, secondo quanto appunto prevede anche la nostra Costituzione. Gli ACP si sono divisi appunto tra Comuni e Regioni. E per esempio, nella nostra Lombardia, nella nostra Milano, succede una cosa particolare. Il Comune di Milano gestisce i propri immobili di edilizia sociale, sono circa 28 mila, e ovviamente non paga l'Imu, non si paga l'Imu a se stessa. Regione Lombardia, attraverso le aziende Lombarde per edilizia residenziale, per esempio quella di Milano, gestisce tra la città e la provincia circa 65 mila alloggi, poco più di 65 mila alloggi, e per esempio paga soltanto al Comune di Milano circa 10 milioni di euro. Quindi lo stesso oggetto tutelato dalla nostra Costituzione viene penalizzato, se è di proprietà della Regione, e non viene invece giustamente penalizzato se è di proprietà del Comune. Allora io chiedo se su questo paradosso il Governo voglia lavorare, insomma. Io credo che un alloggio di edilizia sociale non debba essere soggetto a una stassazione come quella del Limo. Succedono dei paradossi ulteriori. Cioè se l'immobile è occupato abusivamente e l'azienda pur avendo fatto tutte le procedure per ottenere l'estromissione dell'occupante abusivo e non ottenendo l'escomio perché appunto magari le autorità non concedono questa possibilità, dicevo l'azienda che gestisce l'alloggio è costretta a pagare l'Imu anche sull'alloggio occupato abusivamente. Ecco io credo che quindi si possa anche in un momento in cui le difficoltà di incamerare i canoni da parte di queste aziende, la difficoltà di reperire fondi perché sappiamo che dai tempi dell'abolizione della GESCAL non esiste una tassazione che vada direttamente ad aiutare con risorse l'edilizia sociale, l'edilizia residenziale pubblica. In un momento in cui siamo in difficoltà penalizzare così delle aziende sia abbastanza inopportuno. Uso un larghissimo eufemismo. Quindi chiedo al Governo insomma che ragioni affinché l'Imu sulle case popolari non venga più prevista e soprattutto visto che ormai è tardi per cancellare per quest'anno le risorse derivanti dall'Imu sull'edilizia sociale invece vengono destinate dai comuni che la introitano a contributi di solidarietà per gli inquilini stessi o addirittura, ed è il caso ripeto molto importante quest'anno visto l'emergenza Covid, per la copertura dei minori ricavi dovuti alla morosità incolpevole in modo da non compromettere ulteriormente i bilanci degli enti gestori. Quindi ripeto, stiamo parlando di un diritto fondamentale che è quello della casa, stiamo parlando di risorse pubbliche, quindi non stiamo parlando di avvantaggiare aziende private, stiamo parlando dell'edilizia sociale che da anni non vede un piano strutturato e stiamo chiedendo di non tassare un bene pubblico rispetto a una differenziazione che c'è di trattamento tra i comuni e le regioni. Mi sembra assolutamente quindi possibile che il Governo condivida questo ordine del giorno e soprattutto si adoperi affinché appunto l'Imu sulle case popolari non ci sia più una volta per tutte. Grazie.